Francesco Gatta, nuovo membro del CDA della Formica, eletto in assemblea da qualche minuto. Francesco, da quanto tempo lavori qua e quanto tempo fa hai fatto domande da socio? Lavoro nella cooperativa da aprile 2012, sono stato assunto a tempo determinato nel 2013 e ho fatto domanda da socio dopo un percorso di 4 anni ad agosto del 2016. Spero di diventare socio per la fine di questa estate, visto che sto dando il 100% e sto dimostrando la lealtà alla cooperativa. Spiegaci cosa ti ha spinto a candidarti per il CDA nella cooperativa sociale della Formica. Ho spinto dai colleghi che mi hanno chiesto di candidarmi, sono un socio in prova, mi sono iscritto anch'io in questa sottoforma di elezione fatta dai miei colleghi e sono stato scelto, sono contentissimo, spero di contribuire a questa cooperativa. Forse non penso con dei consigli, però aiutando qualche decisione spero importante. Quanto ti è servito questo percorso di partecipazione che viene fatto intorno e in preparazione alle assemblee della cooperativa? Tantissimo, in sostanza tramite consigli, tramite colloqui con il direttore, il presidente, la Piera che è fondamentale, che è proprio l'ancora e la persona che va contro tutti e tutti, se hai ragione, ho visto che non era come pensavo che ci si può parlare, ci si può esprimere, dire la propria opinione e parlando con la Sabrina, Marchetti, che è molto disponibile, ti spinge, ti sprona a questo passo che è decisivo e l'ultimo passo che alla fine ti porta a tutto il percorso all'interno della cooperativa. Hai sperimentato in pieno tutti i percorsi di partecipazione che ci sono da lavoratore, da socio, eccetera, ma adesso da membro del CdA, in termini di responsabilità, cosa ti aspetti? Che lavoro arriva adesso per te? Cosa pensi che arrivi? Sicuramente un po' più di serietà nei confronti anche dei miei colleghi stessi che mi hanno candidato e quelli che non mi hanno candidato. Spero di essere per loro, non dico un punto d'esempio, fa però per i nuovi dipendenti e futuri soci un esempio, come sono stati gli altri per me, un punto di riferimento. Ok, grazie Francesco.